Quando fai quello bianco viene la parte nera, invece così le facevano dalla parte bianca e dalla parte nera, e poi le coppiamo. Quindi questo è un brevetto proprio. Da brevettare davvero? Beh, lei calcoli che 35 anni fa ho costruito una macchina per friggere le chiacchiere, come dicono relanesi, ne ho costruite 5, l'ho brevettata, ho venduto il brevetto a un'azienda che le produce ancora oggi, ai tempi in cui il tuo padre è giovane e me ne va a trovarmi. Per la fara è un po' come questi due tavolini, in cui cadevano le bugie sottilissime tagliate dentro, una volta che cadevano l'olio, era a 200 gradi, si facevano spazio e andavano a finire tutto. Qui abbiamo le metà delle uova che vengono adesso assemblate. Io ho scelto una parte nera e una parte bianca, giusto per fare il bicolore. Grazie. 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 Grazie a tutti.